Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Mideevale. Oggi vi presentiamo un bel saggio pubblicato da Viella dal titolo Furti e insulti. Il conflitto città-campagna tra immaginario e realtà nell'Italia tardo-medievale di Filippo Ribani, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite e a quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego, a lei. Grazie, grazie mille per la presentazione. Dunque, in questo volume ho voluto esplorare i rapporti tra città e campagna nel tardo-medioevo a partire dalle fonti letterarie e in modo particolare da fonti letterarie che afferiscono a quel filone letterario che è la satira del villano, che nasce nel basso-medioevo ed è esplicitamente caratterizzata dal fatto di mettere in ridicolo, mettere alla berlina oppure esplicitamente condannare i contadini in quanto furfanti, in quanto ladroni, in quanto malvagi, anche rozzi, cavernicoli in verbo da dire bestiali. In questo senso, diciamo, questo argomento non è affatto nuovo, anzi è un tema classico della storiografia italiana perché da sempre, fino almeno dalla fine dell'Ottocento, si è studiato il rapporto città-campagna a partire dalle fonti letterarie in modo particolare da questo filone così anche emergente e divertente da leggere e da studiare. Quello che ho voluto fare io però è indagare ciò che c'era dietro di reale rispetto a questa immagine, perché fin qui ci siamo un po' fermati a considerare questa immagine appunto trasmessa dalla letteratura come il punto di vista, diciamo, dei cittadini per come vedevano il mondo contadino. Senza però approfondire troppo, a mio modo di vedere, quali erano le radici di questo punto di vista e quali soprattutto ripercussioni aveva nella vita reale di tutti i giorni dei rapporti tra cittadini e contadini nel basso medioevo. In realtà è un filone letterario che si dilunga molto anche nell'età moderna, in particolare nel 5-600, dando vita anche a personaggi molto noti, o almeno abbastanza noti, forse ancora ai giorni nostri, come il Bertoldo di Giulio Cesare Croce, quindi il prototipo del contadino scarpe grosse e cervello fino. Ecco, sono immagini che provengono direttamente, diciamo, dal basso medioevo, da questo filone letterario satirico contro i contadini. Ebbene, io ho provato quindi a isolare alcuni stereotipi e cercare di affiancare le immagini che provenivano dalla letteratura allo studio di fonti non letterarie, quindi documentarie. Cercherò di spiegarle brevemente nel prosieguo, in modo da vedere quali fossero, diciamo, le intersezioni, i legami tra l'una e l'altra. In particolare ho dedicato, il libro diviso in tre capitoli, ho dedicato i primi due capitoli ad approfondire quello che forse è lo stereotipo, diciamo, l'elemento principale, più caratteristico della satire italiana, ovvero quello del furto contadino. Cioè, per una serie di motivi, il pubblico italiano, in particolare basso medievale, era molto più interessato di quell'oltralpe alla figura del contadino ladro. Cioè, se nella satira francese, tedesca, si ha un'esistenza molto più forte su temi altri, come appunto la malvagità, la rozzezza, la grossolanità dei rustici, in Italia si è fatta molto più attenzione ad approfondire l'aspetto di furfanteria, insito nella natura contadina o quella che si vorreva rappresentare come tale. E questo è stato studiato da, fin dagli studi, insomma, del compianto Giovanni Crubini, è stato individuato come l'elemento principale della satire italiana. Ecco, quindi ho voluto partire da lì per andare a approfondire i legami con la realtà di questa immagine. E l'ho fatto mettendo in correlazione l'immagine del contadino ladro con le risultanze processuali dei processi appunto per reati agricoli, i quali ricadevano quelli, diciamo, più estemporanei, quelli magari che, di cui tra l'altro si può trovare, non so se si vede, si può trovare rappresentazione plastica nella copertina del libro, cioè un contadino o un ragazzo che sale su un albero di ciliegio e ne fa una scorpacciata, c'ha tra l'altro il cappuccio pieno, e subito sotto il padrone, il fattore, che lo aspetta con la, col bastone, aspettando che questo scenda per, per dargliene di santa ragione. Ecco, questo tipo di reato, che doveva essere piuttosto frequente, di cui ci parlano numerosissime novelle, ricadeva nella fattispecie giudiziaria del danno dato, andando, che quindi è una, diciamo, una sfera giudiziaria a cui veniva dedicato un foro presso i tribunali urbani, un foro specifico. Andando a studiare le risultanze processuali di questo tipo di procedimenti, si scopre innanzitutto che nell'area più vicina al centro urbano non erano tanti i contadini o i campagnoli a essere accusati o scoperti dai berruvieri con grappoli d'uga sospetti o frutta sotto braccio sospetta a essere appunto accusati di danno dato e di furto agricolo, quanto erano i cittadini. Quindi in un ambito più prossimo, diciamo suburbano, questa dicotomia forte che appare in letteratura tra un mondo contadino, ladro e furfantesco, un mondo cittadino appunto più civile, viene meno, o comunque si smorza molto. C'era più prossimità, anche di comportamenti tra i due mondi rappresentati come contrapposti. Questo però invece dà credito a quelle novelle forse un pochino più realistiche che mettono in scena anche appunto cittadini che rubano negli orti, nei frutteti altrui. Mi riferisco in particolare a una divertentissima novella di Sacchetti, quindi siamo a fine 300, in cui viene raccontata la storia di questo Minonna Brunelleschi, cittadino fiorentino quasi cieco, che aveva diciamo la passione dei furti agricoli, ecco andava a rubare un po' negli orti, nei frutteti altrui. Ne nasce una storia di piccoli furti che scatenano la vendetta del danneggiato, il quale si vendica a sua volta su Minonna andando a rubare a sua volta nel volto di questo personaggio. Quindi una sorta di vendette, di furti e contro furti che si risolve in una rissa in ambito urbano. Ecco, di questo tipo di dinamiche si può trovare rappresentazione meno colorita, meno divertente quanto si vuole, ma lo stesso tipo di dinamiche si possono ritrovare anche nei registri penali, nei registri dei danni dati, quindi nei registri giudiziari. E questo quindi è, come dire, si incominciano a intravedere i filoni più realistici della rappresentazione letteraria, questo tipo di dinamiche, quelli invece più calcati in senso ideologico, cioè la forte differenziazione che in realtà non c'era tra mondo cittadino e mondo contadino. Entrambi si dedicavano ai furti, entrambi magari entravano in una logica di vendette reciproche proprio per furti di magari anche piccoli ortaggi che noi considereremmo forse così secondari, ecco, non particolarmente economicamente rilevanti, eppure potevano dare vita a questo tipo di dinamiche. L'altra cosa che mi, così, che mi preme forse sottolineare è l'aspetto delle false accuse, cioè in letteratura uno degli elementi satirici non tanto contro i villani, perché in alcuni testi pur satirici viene data voce ai villani, sono i villani, i contadini che parlano ed espongono il loro punto di vista, che poi magari viene distorto, viene così deriso, però si ha la percezione che in qualche testo almeno sono effettivamente i contadini stessi a parlare e portano istanze anche genuine. Ecco, una di queste istanze è appunto la lamentela sul fatto che i cittadini, e in particolare i proprietari terrieri, si approfittano dei contadini, che sono quasi per antonomasia più deboli e meno protetti dal punto di vista legale, accusandoli falsamente di danneggiamenti, furti, che in realtà non erano mai avvenuti, al solo scopo di ottenere da loro risarcimenti, come dire, non fittizi. Ecco. Questa cosa qui viene fuori anche nei registri penali, nei registri dei danni dati, in quanto ci sono diverse accuse di danno dato che si rivelano non reali, si rivelano infondate, di cui si ha la controdenuncia, diciamo, del contadino che si appellava al podestà, quindi a un potere superiore rispetto al giudice dei danni dati, chiedendo che fosse sospeso il processo al suo carico per piccolo furto agricolo, e che venisse invece aperto un procedimento per falsa accusa nei confronti del bormitario. Ecco che quindi, pur essendo realistica, diciamo, la problematica della falsa accusa di danno dato nel contaddo bolognese, ma la cosa si potrebbe estendere anche ad altre realtà che non ho toccato esplicitamente nel libro, è un aspetto realistico della letteratura, ma che dimostra anche come in realtà i contadini non fossero poi così sprovveduti dal punto di vista legale, non fossero così, come dire, sottomessi anche dal punto di vista giudiziario al mondo cittadino, come magari qualche testo letterario vorrebbe far credere. E forse è proprio perché non erano, il mondo contadino era un po', diciamo, sfuggente al controllo della città, che l'astio nei confronti dei contadini è così presente in letteratura, cioè se non si riesce a condannarli di fronte a un giudice, allora almeno ci ribultiamo addosso tutto l'astio e l'odio che possiamo attraverso la letteratura di cui, diciamo, abbiamo il pieno controllo noi cittadini. Ecco, questo è, diciamo, quello che emerge un po' dai registri dei danni dati. Quello che caratterizza però maggiormente la satire italiana appunto è il tema del furto agricolo, ma in particolare il furto del mezzadro, cioè del contadino dipendente nei confronti del proprietario terriero. Quindi se nei danni dati viene fuori una... sono esaminati casi di furti estemporanei, ok, magari passando un pomeriggio assolato per la via si ruba qualche grappolo dalla vigna subito al lato della strada o cose di questo genere. Per entrare all'interno dei rapporti di lavoro agricolo, quindi nelle conflittualità tra proprietario e contadino dipendenti, bisogna cambiare ambito giudiziario, spostarsi nell'ambito giudiziario civile, dei dischi civili. A questo proposito nel secondo capitolo ho indagato soprattutto il ricchissimo archivio giudiziario bolognese, ancora una volta, e vengo da Bologna, ho studiato prettamente quell'archivio lì estendendomi da altri archivi, adesso ci arrivo in un secondo momento, in cui presso il tribunale dei dischi civili bolognesi venivano esaminate, non tantissimo a dir la verità, ma un buon numero comunque di cause civili per mala laboratura, cioè il termine diciamo tecnico in latino con cui venivano identificati quei casi di lavoro agricolo non pienamente in linea con la normativa. Perché bisogna ricordare che non erano solo i contratti tra proprietario e contadino a normare il lavoro agricolo di volta in volta, era anche la normativa cittadina, sono gli statuti del comune che normano il numero per esempio di arature che il contadino doveva effettuare sui terreni, o quando effettivamente doveva potare le vigne e cose così. E sono molto specifiche le normative. Ecco, in violazione di queste normative si trovano le accuse contro le violazioni di queste normative nei tribunali civili. Anche qui, come nei danni dati, il proprietario godeva di procedura sommaria, cioè la normativa cittadina prevedeva esplicitamente che fosse a carico del contadino l'onere della prova. Ovvero, se il proprietario denunciava al giudice che quel tal mezzadro contadino dipendente gli aveva non consegnato la metà dei prodotti come previsto per contratto, oppure non aveva arato quattro volte come previsto dagli statuti quella determinata porzione di terreno, ma l'aveva fatto solo tre volte, per esempio, ecco che il proprietario non doveva provare con testimoni le sue accuse, ma gli veniva creduto il giudizio sulla base della sola sua parola. Stava il contadino a provare con testimoni o con altra documentazione che avesse invece rispettato le norme. E quindi è evidente lo squilibrio giudiziario, no? Che c'era a monte di questi processi, per cui la parte proprietaria era molto avvantaggiata. E quindi è normale vedere come, diciamo, sui grandi numeri i contadini di solito riuscivano perdenti in questo tipo di procedimenti. Vale la pena però sottolineare come nella maggioranza dei casi, contrariamente a quanto forse si può pensare, i contadini non scappavano, cioè non rifugivano il confronto giudiziario, anzi, si presentavano in giudizio magari accompagnati da avvocati, nei casi più fortunati, magari anche con testimoni. E appunto in una minoranza dei casi viene fuori che, insomma, anche grazie ai testimoni i contadini riescono a vincere il confronto giudiziario, quindi vengono assolti dalle accuse di furto di lavoro, di furto di prodotti, di mancata rispetto delle tempistiche, loro rivoltegli dai padroni. Quindi l'esito giudiziario, se la bilancia era squilibrata nei confronti della parte padronale, comunque l'esito non era scontato. Perché non era scontato? Perché comunque il tipo di accuse che i padroni rivolgevano ai contadini potevano configurare, diciamo, non tanto furti così oggettivamente considerabili come tali in ogni caso, ma potevano essere, per esempio, delle incomprensioni nella consegna o meno di certi prodotti, nella tempistica in cui certi lavori dovevano essere svolti. Quindi si entra all'interno di dinamiche del rapporto di lavoro che possono essere considerate come furti, come danneggiamenti, danneggiamenti solo in un'ottica di parte, ovviamente di parte padronale. Il contadino in qualche caso riesce a far emergere la sua propria visione, cioè appunto che non si trattava di furti, non c'era dolo dietro, c'erano altro tipo di problematiche. E questo poteva farlo sia appunto con testimoni sinceri, sia in qualche caso con testimoni non sinceri. E ci sono puntualmente a conferma dello stereotipo letterario del contadino in fido che non dice mai la verità, che lotta sempre contro il bene del cittadino. Ci sono casi di accuse padronali nei confronti dei testimoni del proprio contadini che avevano testimoniato il falso e che avevano difeso efficacemente il contadino nel processo per mare la laboratura. Quindi non era mai scontato l'esito dei procedimenti e magari così a livello di, per dare un po' di colore, c'è un caso reggiano, perché ho compulsato anche l'archivio di Reggio Emilia a questo proposito, che è diciamo esemplare anche se estremo in questo senso, in cui un proprietario accusa il proprio mezzadro di non avere lavorato la vigna a dovere e di non avergli restituito un prestito in denaro. Il giudice stabilisce che il mezzadro non è colpevole per una buona parte dei capi d'accusa e il proprietario, che si vede evidentemente, che diciamo è molto scontento da questo esito giudiziario, protesta nei confronti del giudice e dalla risultanza processuale diciamo emerge come il giudice lo abbia apostrofato un manigoldo e lo abbia spedito in carcere con la testa nei ceppi. Quindi morale della favola del proprietario era finito in carcere quando il suo contadino accusato era stato fondamentalmente assolto. Quindi non era mai scontato ecco l'esito dei procedimenti, nonostante magari tutti gli stereotipi che circolavano ed effettivamente magari circolavano anche tra quegli stessi giudici chiamati a giudicare nei confronti della malvagità, della forfanteria, della ladroneria dei contadini, comunque il giudizio, il processo era un campo se non neutro comunque con un certo grado di imparzialità in cui i contadini potevano comunque far valere la loro voce. Questo per quanto riguarda appunto i furti all'interno dei rapporti di lavoro. Nel terzo e ultimo capitolo ho abbandonato il tema dei furti e per entrare in quello degli insulti appunto, furti e insulti. Tema che è meno caratteristico della satira italiana, dell'immagine letteraria italiana ma è comunque molto diffuso anche in Italia, non solo al prove, e che riguarda una serie di caratteristiche sia fisiche, antropologiche dei contadini, il loro essere simili agli animali anche proprio da un punto di vista fisico, oppure il fatto che il lavoro contadino, il lavoro agricolo, il lavoro con le mani, al sole, alla pioggia, esposti al vento lasciasse dei segni visibili sul loro fisico che venivano appunto, di cui veniva, per cui venivano derisi in letteratura. I calli nelle mani, il fatto che non si sapevano esprimere, che avevano la pelle più scura, tutte cose insomma abbastanza note, ecco. Tutte cose che anche appunto sono fin qui, diciamo, a livello della ricerca letteraria e storica rimaste un po', a mio modo di vedere, configurate in un ambito appunto letterario. Se si vanno però a leggere, in modo particolare, io ho letto gli epistolari degli ufficiali di governo periferici degli stati rinascimentali padani, quindi Stense, Sforzesco, Gonzaguesco, si, come dire, si riescono a cogliere delle, al mio modo di vedere, insospettate, ecco non me lo aspettavo, consonanze di lessico, di linguaggio e anche di immagini usate, con i testi satirici. Per esempio, un paragone satirico molto, come dire, molto forte, molto negativo contro i contadini era il loro essere come i giudei, cioè erano complici dei giudei, viene detto in diverse satire, nell'uccisione di Cristo. Accusa piuttosto pesante, come si può, come si può capire, proprio perché erano appunto non leali, erano completamente sleali nei confronti di Cristo, figuriamoci nei confronti del prossimo, ecco, del cittadino, del contadino loro prossimo. Questo tipo di accuse viene fuori anche nelle parole stesse di un ufficiale della montagna reggiana, nel momento in cui deve descrivere alla corte il comportamento di alcuni contadini che si erano lamentati del fatto che li vessava dal punto di vista fiscale, quindi gli faceva pagare troppe tasse, questi si erano lamentati con la corte e l'ufficiale si giustificava dicendo ma questi sono come giudei, sono assolutamente, sono ostinati, sono duri come giudei, non vogliono sottostare all'autorità e in quanto tali vanno, come dire, considerati per quello che sono. Lo stesso paragone tra l'altro si ritrova anche nelle parole di Machiavelli all'inizio del Cinquecento che scrive I Dieci di Balia, quindi è questo paragone tra giudei e contadini, il senso ovviamente dispregiativo, non è solo un argomento letterario ma è un qualcosa che caratterizza il pensiero stesso delle classi dirigente, quattro cinquecentesca almeno in Italia, italiana, quindi è, come dire, si esce un po' dalla curiosità letteraria, ecco, non è solo, non stiamo parlando solo di una curiosità letteraria. In più un altro aspetto che mi, così mi preme a sottolineare nel tempo che ho qui, è i calli nelle mani, cioè il fatto che i contadini apparissero effettivamente come contadini subito agli occhi dei loro interlocutori non era solo un qualcosa che poteva dare vita appunto a immagini letterarie colorite e anche divertenti dal punto di vista di chi li deve leggere oggi, ma avevano un riflesso profondo nella vita di tutti i giorni e nella, come dire, nelle facilitazioni che questi individui avevano o non avevano nella loro, nella loro vita di tutti i giorni. Perché mi è capitato di avere tra le mani una lettera di un ufficiale, anzi di un giudice dei salvi ferrarese, quindi diciamo un governatore della città, che doveva dirimere sulla condizione giuridica e fiscale di individui che risiedevano in campagna ma che formalmente godevano della cittadinanza. Ecco che al momento di imporre nuove tasse, magari il comune, la città era anche in crisi di liquidità, quindi aveva bisogno di riscuotere, si va a decidere sulla condizione di questi individui un po' borderline, un po' come dire, imbilico tra città e campagna e si decide per la loro appartenenza diciamo al mondo campagnolo e quindi al mondo svantaggiato dal punto di vista fiscale perché avevano i calli nelle mani, si legge proprio, avevano le mani piene di calli. Quindi quei calli che in letteratura facevano sì che i contadini fossero, avessero le mani appunto piene di calli e quindi non riuscissero a maneggiare i delicati vestiti di seta come in una novella di Sermini, un novellista senese, oppure che erano rozzi e grossolani immediatamente riconoscibili come rustici ai loro interlocutori, ecco che nella realtà effettivamente godono di minori diritti civili e fiscali proprio perché hanno i calli nelle mani. Magari è un caso estremo però è indicativo di come anche appunto dallo stereotipo letterario si ricavi un'immagine fisica molto realistica che aveva delle ripercussioni a livello appunto fiscali e piuttosto consistenti e negative per coloro che la assumevano. L'ultimo forse per concludere aspetto e che è emerso anche questo nel corso della ricerca un po' per caso diciamo è quello dell'accostamento tra contadini, quindi villani e universo stercorario se lo vogliamo chiamare o basso corporeo, ecco per dirla con delle perifrasi un po' altolocate. Nel senso che l'accostamento tra contadini e basso corporeo è un luogo comune della letteratura almeno dai secoli centrali del miglio evo, penso alla favola di Unibos, poi pensiamo a quelle numerose, ai numerosi fablieux che accostano il contadino allo sterco o allo lezzo dello sterco, ecco è un luogo comune che avrà notevole fortuna anche nella novellistica italiana, insomma non c'è bisogno di dilungarsi troppo su questo. Forse un po' meno nota è un testo trecentesco di un giullare lombardo che si chiamava Matazzone da Caligano, Matazzone nome come dire caratteristico, che narrava appunto la nativitas rusticorum, cioè la natività dei rustici, i quali rustici, la razza dei rustici era nata dal petto di un asino, niente di meno. Questa cosa qui, questa suggestione letterale verrà poi ripresa nel Cinquecento da Teofilo Folengo, nell'Orlandino, che farà nascere i rustici direttamente dallo sterco dell'asino, quindi surge villane direttamente dallo sterco, ecco che nasce il villano, a testimoniare un po' del fatto che i villani erano gli ultimi della società, ok? Erano, appunto, nascevano dallo sterco. Emerge in maniera chiarissima, a mio modo di vedere, anche rivelatrice, il fatto che i contadini erano associati allo sterco anche negli insulti che effettivamente venivano lanciati contro di loro, non dalle classi dirigenti del 3, 4, 500 italiano, ma dalla società cittadina tutta, ecco, erano accuse molto diffuse. Si leggono infatti nei processi per ingiuria, quindi per insulto, parole ingiuriose rivolte ai contadini che, e qui cito la fonte, mi scuserà per il turpiloquio, sono villani de merda, fine della citazione. Questo paragone, questa assimilazione del mondo contadino all'universo escrementizio ovviamente non è esclusiva del mondo contadino, chiunque volesse insultare qualcun altro lo tendeva a paragonarlo ad aspetti, diciamo, analoghi, o comunque voleva assimilarlo all'escremento, a qualcosa di sozzo, di marcio, di putrido, quindi non è, come dire, un'esclusiva del mondo contadino, un privilegio del mondo contadino, il fatto di essere accostati agli escrementi, però risalta subito all'occhio questo paragone tra insulti effettivamente pronunciati nei confronti dei contadini e immagine letterarie dei contadini. Quindi questo stereotipo letterario così fortunato a livello di immaginario appunto della letteratura dotta e meno dotta del 3, 4 e 500 aveva in realtà, come dire, era profondamente radicato nella società cittadina e non solo di quei secoli, perché tra l'altro insulti di tal fatta, cioè villano de merda, si leggono anche rivolti a individui che erano cittadini, cioè un cittadino che insultava un altro cittadino con queste parole. Questo può voler dire o che quel cittadino, l'insultato, era proveniente dalla campagna, o comunque aveva un'origine campagnola, ed emerge un altro forte tema letterario che è quello del rifiuto della società cittadina nei confronti dei nuovi venuti, del venuti dal contadino in modo particolare, degli immigrati, tema che suona familiare anche al giorno d'oggi. Pensiamo a Dante che si, diciamo, rimpiangi i tempi in cui la cittadinanza fiorentina non era mista di cert'alba, di campi, di figline. Ecco, siamo a quel livello lì. Ci sono degli insulti contro sozzi villani fatti cittadini, si può leggere nelle carte giudiziarie. Quindi emerge anche questo tema, questo tema profondamente sentito a livello sociale, del rifiuto dell'immigrato, in modo particolare dell'immigrato donato dal contado, che lo si paragona all'escremento, ecco, che imputridisce e fa marcire la società cittadina. E si può leggere però, e questo concludo, in pochi casi, che però sono secondo me molto interessanti, di insulti di questo tipo, rivolti da personaggi che non erano cittadini, quindi a campagnoli, contro altri campagnoli. Quindi un campagnolo che insultava un altro campagnolo chiamandolo villano de merda. Questo cosa vuol dire che probabilmente l'immagine denigratore del mondo contadino, prodotta in un ambito egemone come quello della cultura cittadina, era un'immagine dominante, dominante al punto che aveva incominciato a, come dire, installarsi anche negli ambienti campagnoli, che pure se stessa voleva denigrare. È un fenomeno, diciamo, tipico, studiato dalla sociologia, già dagli anni 70 con Pierre Bourdieu e poi in avanti, appunto di assimilazione del pensiero dominato a quello dominante. Ed è però indicativo e molto, come dire, pregnante e fa un po' pensare come quello che magari era, diciamo, anche nei miei studi era partito come un gioco letterario, ecco, andiamo a vedere come questo scherzo letterario si traduce nella realtà, ecco che invece ha assunto dei caratteri molto più, come dire, anche forti e pesanti, non solo realistici, ecco, se uno va a indagare effettivamente le radici e soprattutto le ripercussioni di un'ideologia come quella che sottostà alla satira del villano nella vita reale delle persone, in modo particolare dei contadini del 3-400 italiano, ecco che insomma si ha un quadro piuttosto forte. Con questo direi che spero di essere stato nei tempi e spero di aver dato così un'idea di quello che è la ricerca che sta dietro questo libro. Grazie. Grazie a lei, è un argomento molto, molto interessante anche perché ha una prospettiva, un'ottica di studio molto interessante e poco conosciuta dal grande pubblico, no? Cioè pensare che coniuga l'anti-giudaismo con l'anti-immigrazione sembrano temi di questi giorni, no? Invece è un portato che viene da lontano. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Infatti in questo senso è stato anche sorprendente, no? Occuparsi del mondo contadino che a noi ormai sembra, sembra perso, sembra, non esistono più in realtà i contadini, ecco. In realtà andare a vedere come venivano visti i contadini dai cittadini ci fa capire tanto anche dell'oggi, cioè di come noi ci rapportiamo agli altri. Stiamo parlando della rappresentazione del diverso, ecco, diverso in senso deterioro, ovviamente. Esattamente. Va beh, io allora ricordo il titolo del libro, così possono correre ad acquistarselo. Il titolo è Furti e insulti. Il conflitto città-campagna tra immaginarie e realtà nell'Italia tardo-medievale. pubblicato da Viella, curato da Filippo Ribani, che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite, che io ringrazio tantissimo. E a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa troverete tutte le altre videopresentazioni realizzate finora. Grazie ancora, Filippo. Grazie mille, grazie mille davvero. Grazie mille.